La Toscana è pronta ad applicare le indicazioni del Ministero per il coronavirus che arriva dalla Cina. La regione ha ricevuto la circolare inviata dal Ministero della Salute contenente tutte le indicazioni riguardanti il nuovo virus che finora ha provocato 291 casi di polmonite in Cina con quattro decessi. Nella circolare si dice che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando attentamente la situazione ed è regolarmente in contatto con le autorità cinesi. Il Ministero ha predisposto materiale informativo da affliggere negli aeroporti a Fiumicino e già in vigore una procedura sanitaria per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici e il loro trasferimento all'Istituto Nazionale di Malattie Infettive di Roma. Nella circolare si danno anche indicazioni per la diagnostica di laboratorio e per la notifica dei casi. La regione ha anche diffuso la circolare a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere dando indicazioni ai direttori per il loro recepimento. Inoltre sta verificando di avere tutti i dispositivi necessari per la protezione degli operatori ed è pronta ad attivare tutte le misure necessarie per proteggere i cittadini.